Ci vediamo stasera. Donna a terra, sulla 42esima di South Mohawk. 5021 E, viagente in borghese risponde per Mohawk. Sembra un'esecuzione. Qualcuno l'ha portata su. Le ha sparato ed è caduta. Cosa sono? Bambole Scacciapensieri, del Guatemala, credo. La vittima si chiama Sofia Perez. Credo stesse fuggendo da qualcosa o qualcuno. Si è rifugiata nell'edificio in costruzione, ma non c'erano uscite. Sofia era in trappola. Poteva solo salire. È arrivata sul tetto con l'escalante incendio. Che sia stata spinta o che sia caduta, è atterrata qui. Riguardo alla vittima, voglio sapere come è arrivata qui. Scoprite se ha una famiglia qui a Chicago, forza. La tua richiesta d'adozione è stata accolta dalla corte. C'è un'altra cosa. Ho bisogno che nomini un tutore. Qualcuno che faccia le tue decine. Non andrò da nessuna parte, non c'è bisogno. Questa è la legge, Kim. Non puoi rifiutarti. Chicago PD. Giusto. Lunedì 21 e 20. Avrei bisogno di qualche giorno per pensarci. Prima Visione Italia 1 No.